Monsignore, questo anno del trecentesimo è volato? Sì, da un certo punto di vista è volato, però è anche durato quello che doveva durare. È stato uno spazio intenso, forte, pieno e io mi auguro anche utile. Facendo un po' il bilancio delle cose fatte. Ci sono delle cose di tipo artistico, musicale. Abbiamo fatto cinque elevazioni musicali di alto livello. Otto conferenze di tipo culturale su temi diversi, riferiti alla storia di questi trecento anni. Abbiamo fatto quattro celebrazioni liturgiche. Per esempio proprio l'anniversario dove ho presieduto io, ho avuto l'emozione di presiedere io. Poi questo il 6 luglio, il 10 luglio è venuto il Vescovo di Bergamo. Il 15 agosto, festa della nostra patrona dell'Assunta, il Cardinale Piovanelli e Merito di Firenze. E adesso l'8 di gennaio l'Arcivescovo, coadiutore di Santa Cruz della Siera, il nostro concittadino Monsignore Gualberti, concluderà con l'ultimo pontificale. Poi abbiamo una mostra museo di grande qualità, di grande bellezza. Abbiamo avuto circa 6.000 visitatori. Un annullo postale sul 6 luglio. E poi dal punto di vista polcloristico-artistico, la notte del millennio, quest'anno è stata dedicata alla progettazione e alla costruzione della basilica. Due salite al campanile, parecchi articoli sulla rivista e poi la predicazione, la predicazione spessissimo durante l'anno e il calendario di Quaresima che era tutto impostato sul centenario. Abbiamo avuto delle obiezioni, per esempio leggendo sul registro del museo, c'è stato uno che ha scritto, ma insomma siamo nel 2012, che cosa ci portate avanti tutta questa anticaglia. E c'era il sagrista che è rimasto un po' meravigliato e gli ha detto, guarda che dobbiamo rispondere a questo qui, che è vero che siamo nel 2012, ma siamo nel 2012 così perché ci sono stati questi tre secoli alle spalle. Cioè noi siamo il frutto di una storia, di una tradizione e adesso c'è solo il compito e la responsabilità di continuare, che è quello che anche il Vescovo ha scritto poi sullo stesso registro del museo. Io credo che avevo nel cuore, organizzando questo centenario, di far innamorare sempre di più i clusonesi della loro chiesa, per fargli venire voglia di tornare, di venire, di continuare a venire quelli che vengono, di tornare a quelli che non vengono più. Ma lo scopo principale era quello che, dopo aver frequentato la chiesa, uscissero ogni domenica un po' più cambiati, un po' più capaci tutti, a cominciare dall'arciprete, un po' più capaci di amare, di sperare e di servire.